Abbiamo perso insieme a Gino Sada un'altra amica, un'altra persona cara e molto luminosa, una cara amica e il cui sorriso, non so, ecco guarda questo studio subito come si illumina, Piera Degli Esposti un'attrice, un'attrice, un'intellettuale, una comica, una drammatica io non so, non so che cosa si può dire Emanuele di Piera A proposito di libertà, era una meravigliosa gatta randaggia Una gatta randaggia E' stata una donna completamente fuori dagli schemi Se posso dire una sola cosa, parte del suo talento stava nella curiosità per il talento degli altri non appoggiava su un'idea di sé ma sull'essere nutrita da tante cose che avvenivano nei libri, nei film, negli spettacoli, nella chiacchiera Si nutriva molto degli altri Grazie Trevi, grazie a Daniele Mastro Giacomo, a Professor Matteo Passetti, ovviamente a Francesca Mannocchi che ha dedicato i minuti